Ho scritto confessioni audaci di un ballerino di liscio dopo un viaggio in Polesine, che da Bergantino mi ha portato fino a Pila. In ogni tappa di questo viaggio c'era qualcuno che mi aspettava per raccontarmi del proprio quotidiano e del proprio rapporto con il fiume. L'ingrediente segreto di confessioni audaci è la balera di Frank Saponara, un posto dove la gente va per cercare l'allegria. Ma tra le note danzanti di una polca si nascondono segreti e misteri. Grazie per la visione!